Mmh Bündi! E benvenuti al nuovo format di... Cassera Non so dire Non puoi dire Bündi Non posso cambiare adesso, ho già fatto due anni di Bündi E benvenuti al nuovo format di Fratello contro Sorella Ci saranno 5 sfide oggi, ma questo è un format, quindi ce ne saranno altre Se ne conoscete metteteli nei commenti che ne sfideremo sempre Quindi partiamo dalla prima sfida Non devi poi guardare Anna Non mi dici cosa stai facendo Partiamo dalla più semplice Non mi piacciono le cose che... Ma no, mi devi dire cosa giochiamo Te lo dico, un attimo E dai, mi viene da piangere già Ma perché? Dai Pisci ad osso Ah, la testa era fredda Benvenuti alla prima sfida La prima sfida sarà flip the battle Mi faccio schifo Non l'ho mai fatta Un tentativo testa Prima che ci riesce se ne aggiudica il punto Oh Ah ma... Mi sono già... Oh Mi ha sempre già... Il primo punto va l'Anna Ora iniziamo con quelle più divertenti Parole non stop Io dico una parola Tu ne dici un'altra caso Qualunque parola tu voglia dire Però devi dire una parola dietro l'altra Vuoi dire qualunque cosa Basta che non aspetti più di un secondo Tra una parola e l'altra Mi va Mi angoscia Non si fa solo a ripetere No Allora pronti? Dai aspetta, aspetta che ci penso Parto io Cerchio Lapata La banana Tavolo Papalla Sedia Acqua Legno Lince Ma è vero? Basta io Che ansia Dai bello bello Rifacciamo Rifacciamo Vai Limone Terribile non so gestirla Hai già preso il tento Telefono Che casa Banana E ti? Wow E ti? Che Cos'è? Telefono a casa Dai anda Ci sono cinque giochi Quindi ninja 22 Altro gioco Chiudi gli occhi Dai 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 Eh Eh lo so Lo dico lo dico Ciampi Bunny Lo sapevo Terzo gioco Ciampi Bunny Si è mai giocato? Si Un sacco di volte Io non ho mai E li testo anche Anche io Ok Perchè non lo conoscesse Ciampi Bunny Eh Ma lo conosco tutti Eh ti devi mettere un marshmallow Nei cu Le le Dei metterti Chi dice che si mette più marshmallow in bocca Eh no Metti un marshmallow in bocca Dici Ciampi Bunny E poi tipo Continui Allora proprio vai Un Ciampi Bunny Ciampi Bunny No devi dire il numero Ah un Ciampi Bunny Due Ciampi Bunny Due Ciampi Bunny Ciampi Bunny Mi vuole un po' 3 Ciampi Bunny Già 3 Ciampi Bunny 4 Ciampi Bunny 4 Ciampi Bunny Quattro Ciampi Bunny 5 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 Ciampi Bunny 6 Ciampi Bunny 6 Ciampi Bunny Sì, ci siamo dovuti prendere la pausa perché è stato impegnativo. Ottimo, siamo al quarto gioco, siamo due a uno per lei. Il quarto gioco si chiama Wish Per Challenge. Cos'è? Wish Per Challenge, credo che si pronunca. C così. Il gioco è l'avversario avrà la musica nelle orecchie alte in modo che io non possa sentire quello che dico io e dovrà leggere l'abbiale di una parola che sarà decisa da questa applicazione. Vai. Mama. Left, right. Mettiamo hard rock. Hard rock. No. Mettitele. Una parola e ti leggerò la prima. Non sento. Mi piace una canzone. Ok, dai, vai. No, vai. Ok, pronta? Discendente. Ridilla? Discendente. Ridilla? Discendente. Cetriolo? Cetriolo? Cinque parole a testa e guardiamo quante le zecchi. Questa è andata nei quattro. Fritto. Fritto. Affitto. No. Fritto. Rubinetto. Cos'è? Rubinetto. 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 Dai, ho detto il limite. Mezzo, mezzo. Siamo uno e mezzo. Manca l'ultima. Pronta? Macchine. 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 Macchina. Mezzo punto. Dai, però, Davide. Hai due punti. Hai preso un punto pieno e due mezzi. Che è mezzo? Vabbè, mezzo, macchine, macchine. Io sono... Groenlandia. Via Lattea. Groenlandia. Chi cazzo sa Groenlandia? La patrice. Questa parola non l'hai mai sentita. Eh? Tanto questa parola è strana a te. La patrice. La patrice. Cuba. Sìììì. Due giusti e una sbagliata. Cicciona Estensione Due giusti e due sbagliati Ok La fai che bello l'hard rock Bugia Bruciare Se hai in vantaggio tu, in punto Se vinco io, pareggiamo Se vinci tu, hai vinto Ultima sfida Non so come si chiami ma Mangia il cracker Senza bere Io ti dico che sono sicuro di riuscirci Io farei il primo che lo mangia Abbiamo la sfida Primo che finisce il pacchetto di cracker In un minuto Pronta? Via Ti danno l'abbiamo Basta Zitto Signori è stato un super piacere Stai ancora masticando? È stato un super piacere Questa è stata la prima sfida Questa è stata la prima sfida tra fratello contro sorella Ed è stato un bellissimo pareggio Una sfida bella combattuta Fino all'ultimo Non mi ha vinto io Grazie di tutto Scrivetele Tutte quelle che volete che facciamo Facile E ragazzi Che possa vincere Alla prossima Sono competitiva Ciao Ciao